Una fusione, come si diceva a poc'anzi, di stili, di generi. Come mai, insomma, sei un menestrello, sei un videomaker, come mai tutte queste passioni? Cioè, proprio tu sei così come persona o sperimenti per vedere quale potrebbe essere la via giusta? Ma io guarda, ho visto, cioè, almeno anche molte persone che ho avuto la fortuna di conoscere lungo la strada, lungo il cammino. Chi di solito ha delle attitudini artistiche, magari ce n'è sempre una che è quella più conosciuta, come magari nel mio caso, appunto, possono essere la musica e i video. Però, molto spesso, quando si ha voglia di creare, la creatività, secondo me, almeno nel mio caso, è quasi un onnimo diretto di voglia di comunicare. Cioè, per me, che sia un video, più che una canzone, più che una fotografia o cose grafiche, sono comunque una voglia di trasmettere qualcosa a qualcun altro, un modo mio di vedere le cose, un modo mio di interpretare delle cose. Perciò, a volte, possono prendere forma in diversa maniera. Ripeto, nel mio caso, unire più situazioni, che possono essere la musica, il video e altre cose, sono state semplicemente una mia predisposizione, una mia curiosità a voler unire più discipline insieme. E a volte, appunto, nascono in maniera anche un po' anticonvenzionale. Ripeto, non sempre c'è lo schema con cui si creano delle cose. Ma come abbiamo detto prima, per esempio, nel cortometraggio di prima, sono nate prima le immagini e poi c'è nata una storia sopra. Io, mi piace sempre dire che non metto limiti alla fantasia. Diciamo, quello che ti viene in mente, poi ti piace trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Cioè, quello che Mari ti ronza per la testa, ti frulla per la testa, poi in qualche modo, nel bene o nel male, riesce sempre a trovare uno spazio e a trovare una sua rappresentazione. Poi non tutto quello che produco lo metto sul web, perché Mari ci sono cose... Esatto, hai qualcosa nel cassetto che più in là, magari nel momento giusto, tiri fuori. Senti, c'era un altro, guarda che paragoni che ti regalo oggi. C'era un altro che secondo me faceva così. Un certo Jim Morrison, non so se lo conosci. Sì, vagamente ho sentito il nome. Forse, dico una stupidata, forse è stato uno dei primi videomaker, poeti e cantanti. Cioè, quindi, un qualcosa che comprendesse tre varie discipline particolari. Poi tutto il resto dell'alone che gli ha girato intorno.